La storia di Papa Francesco Fratelli e sorelle, benvenuti a questa presentazione speciale che approfondisce la vita e i tempi di una figura davvero stimolante e trasformativa nella Chiesa Cattolica e nel mondo. Papa Francesco Nato Orge Mario Bergoglio il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina. Il mondo non sapeva che questo umile ragazzo un giorno avrebbe portato una nuova luce al papato con il suo cuore compassionevole e il desiderio di giustizia sociale. Mentre iniziamo il nostro viaggio, dobbiamo prima dare uno sguardo ai primi anni della vita di Orge Bergoglio. Nato da genitori immigrati italiani, è cresciuto in una casa semplice ma amorevole, dove ha imparato l'importanza della famiglia, del duro lavoro e dell'umiltà. I suoi genitori, Mario e Regina, gli hanno instillato un forte senso di fede e un profondo amore per la Chiesa Cattolica. Questa fondazione lo avrebbe poi guidato nel perseguimento della sua vocazione. All'età di 21 anni, Orge visse un profondo momento spirituale che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Il 21 settembre 1957, mentre si recava a celebrare la Primavera dell'Europa con gli amici, decise di fermarsi in una Chiesa per confessarsi. Durante la sua confessione, ha sentito la chiamata di Dio a diventare prete. Questo intervento divino lo avrebbe posto su un percorso che alla fine lo avrebbe portato alla più alta carica nella Chiesa Cattolica. Seguendo la sua chiamata, Orge entrò nella compagnia di Gesù, nota anche come Gesuiti, nel 1958. I Gesuiti sono noti per la loro forte attenzione all'istruzione e alla giustizia sociale, che avrebbero plasmato il suo futuro ministero. Dopo anni di studi, è stato ordinato sacerdote nel 1969, divenendo poi professore di teologia e filosofia. Ha anche ricoperto diversi incarichi di leadership all'interno dei Gesuiti, tra cui quello di Provinciale dell'Argentina, dove si è guadagnato una reputazione per la sua umiltà, semplicità e impegno per i poveri. Nel 1992 Orge Bergoglio è stato nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires da Papa Giovanni Paolo II e nel 1998 è diventato arcivescovo di Buenos Aires. Durante il suo periodo come arcivescovo, divenne noto per la sua compassione, visitando spesso i bassifondi e sostenendo i diritti dei poveri e degli emarginati. Ha anche svolto un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo interreligioso e della comprensione tra vari gruppi religiosi in Argentina. Ora, andiamo avanti velocemente fino al 13 marzo 2013, un giorno che cambierà il corso della storia. Dopo le sorprendenti dimissioni di Papa Benedetto XVI, il mondo attendeva con impazienza l'annuncio di un nuovo Papa. Quando la fumata bianca è emersa dalla Cappella Sistina, ha segnalato l'elezione di un nuovo leader della Chiesa Cattolica. Con sorpresa di tutti, il nuovo Papa altri non era che Orge Mario Bergoglio, che scelse il nome Francesco in onore di San Francesco d'Assisi, patrono dei poveri e dell'ambiente. Dal momento in cui è salito sul balcone della Basilica di San Pietro, è stato chiaro che Papa Francesco sarebbe stato un diverso tipo di Papa. Ha optato per paramenti più semplici e ha rifiutato di indossare le tradizionali scarpe rosse papali, scegliendo invece di indossare le sue vecchie scarpe nere. Il suo primo atto da Papa è stato quello di chiedere alla folla di pregare per lui, impostando il tono del suo pontificato come uno di umiltà e servizio agli altri. Durante tutto il suo tempo come Papa, Francesco ha continuato a sottolineare l'importanza della giustizia sociale, della protezione dell'ambiente e del dialogo interreligioso. Ha sfidato le norme tradizionali della Chiesa, sostenendo un approccio più inclusivo e compassionevole a questioni come il divorzio, l'omosessualità e il ruolo delle donne nella Chiesa. Inoltre, la sua dedizione ad aiutare i poveri e gli emarginati è stata incrollabile. Ha lavato i piedi ai prigionieri, invitato i senza tetto alla sua festa di compleanno ed è intervenuto personalmente per assistere i rifugiati richiedenti asilo. Mentre concludiamo il nostro viaggio attraverso la vita di Papa Francesco, è impossibile non sentirsi ispirati dal profondo impatto che ha avuto sul mondo. Il suo incrollabile impegno per la giustizia sociale, la sua umiltà e il suo amore per l'umanità lo hanno reso davvero un faro di speranza e un simbolo di compassione per le persone di tutte le fedi. Grazie per esserti unito a noi in questa esplorazione della vita di Papa Francesco, un uomo straordinario che ha davvero lasciato un segno indelebile nella storia. Possa il suo esempio ispirare tutti noi a vivere con maggiore empatia, comprensione e amore gli uni per gli altri. Continua a seguire i video del canale YouTube Fratelli e Sorelle Preghiamo. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale.